Dieci anni di civismo a sostegno del sindaco Seri si strutturano nella spinta alla candidatura a sindaco di Etienne Lucarelli. Uno dei quattro assessori uscenti profili del centro-sinistro fanese in linza per le primarie del 7 aprile, propedeutica la chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno per scegliere il sindaco della terza città delle Marche. Al Pino Bar, Lucarelli ha presentato la sua squadra di Noi Civiche Fano, il logo e le linee programmatiche. Oggi presentiamo il progetto Civiche della città che in questi anni hanno dato un supporto al governo Seri, anche con la presenza di due assessorati e di quattro consiglieri. Un supporto che ha voluto veramente partire dall'ascolto dei cittadini e fare un'azione pratica verso la città, portare a casa tutte quelle necessità che venivano direttamente dai cittadini. Ma anche guardando al futuro, abbiamo costruito una città bella utilizzando i fondi del PNRR per abbellire la città, ma anche per cercare di progettare tutte quelle attività che servono per farci crescere. Abbiamo progettato una città con una grande identità, quella della sua cultura, la città di Vitruvio, la città marinara. Devono partire nei grandi cantieri che rappresenteranno, ad esempio il Carnevale. A tutti questi cantieri bisogna dare continuità. E quindi noi siamo qui per dire che le civiche anche oggi vogliono confermare la loro azione e dare continuità a questi progetti. Però abbiamo grandi sfide che ci attendono per il futuro. Abbiamo sfide, ad esempio, che sono portate dalla crisi economica, dalla crisi sociale, dalla crisi demografica, l'allontanarsi delle amministrazioni dalla gente. Ecco, noi vogliamo colmare tutte queste differenze guardando allo sviluppo economico, ad una crescita che, ad esempio, va dietro alla crescita turismo, una serie di progetti che abbiamo attivato verso la città, ma dobbiamo fare anche un master plant importante per la nostra zona industriale, per farla crescere, per capire quali merceologie possono trainare e quali attività, quali industrie possono trainare il nostro territorio. Nella squadra di Lucarelli un altro assessore uscente come Barbara Brunori e poi consiglieri comunali Pietro Valori, Mirko Pagnetti e volti nuovi alla politica quali Silvia Di Cecco, Carlo Golini, Ilenia Druda e Demma Croce. Noi testimoniamo da vicino quello che potrebbe essere sicuramente un percorso che oggi favorisce l'integrazione di tante persone che ci hanno accompagnato in questi anni, ma che si sono aggiunte, proprio perché c'è una voglia di avvicinare la politica al cittadino, proprio con quegli strumenti di ascolto e, allo stesso tempo, di interpretare quelli che sono dei bisogni per poi farli. Ripeto, è fondamentale in questo momento capire che chi è amministrato ha la capacità di capire, conoscere e soprattutto avere la visione di tutte le cose che oggi vanno messe in campo per avere una città sempre migliore. La candidatura ha come slogan Fano Fa, è sostenuta da noi civici e da un logo contrassegnato da Frecce, metafore della linea programmatica elettorale. Ogni Freccia porterà un tema, in questo caso parliamo di quartieri, che è un tema per noi importantissimo, perché i quartieri per noi sono l'anima della città, come il centro storico ne è il cuore. Ecco, una città deve viaggiare all'unisono e verrà presentata da una serie di persone, da chi comporrà il gruppo civiche, da nuovi elementi che comporranno anche il gruppo giovani, insomma da una squadra vera che parte dall'esperienza di governo per guardare verso il futuro.